Start, 2, 1, missione e liftoff! Sulla lingua, sulle polemiche che nascono dalla lingua, ma voglio segnalarvi una notizia positiva per chi è sensibile a questo discorso della lingua italiana, è che The Mortuary Assistant è un gioco molto carino, che non vi farò vedere adesso perché ci ho già fatto un gameplay, il cui gusto è un pochino discutibile, è un horror dove noi lavoriamo per delle onoranze funibili, insomma, e dobbiamo fare autopsie, dobbiamo rimbalsamare dei cadaveri, insieme subire anche degli eventi sovrannaturali, è un bello horror nel suo complesso, ma non si presta per nulla a un gameplay approfondito, secondo me per il gusto comune, è stato tradotto in italiano da pochissimo, e avevo trovato, ammetto di colore verità, qualche difficoltà perché i test erano molto veloci, e da capire, insomma, non era facilissimo. Quindi io, ecco, se vi interessa il gioco merita, assolutamente sì, se vi va andate a vedere il video che avevo fatto. Per quanto riguarda tutto il resto, diciamo che l'unico genere per cui io comunque aspetto sempre l'italiano sono i giochi di ruolo con migliaia e migliaia, se non milioni, di righe di testo. Ma non chiedete l'italiano su giochi stile Minecraft su giochi di sopravvivenza, non serve. Adesso, non voglio più tornarci sull'argomento, però mi sembra un po' eccessivo accusare che non ci considerano di qui, di là, di qui, di là. Ma in Italia siamo pochi rispetto al mondo, e quindi è normale che costi una traduzione, e tante volte non ne valga la pena. E tante volte siamo noi stessi, con i gruppi di traduzione, a tradurre i giochi. Quindi, ecco, The Mortual Resistance è stato tradotto finalmente, quindi ve lo potete godere e me lo giocherò anch'io. Non ci farò live, non ci farò video, perché è un po' particolare, è una tematica un po' particolare, è una tematica molto sensibile, per quanto sia un horror, appunto, con un gusto discutibile a volte, secondo me, però ci sta. E soprattutto io non intendo più rispondere a messaggi su la lingua italiana. A partire da chi fa discorsi sul fatto che ci snobbano, e soprattutto sul fatto che io non porto giochi italiani, dovrei portare giochi italiani, perché sono gameplayita, e balle varie. Non rispondo, io chiedo solo a queste persone di avere rispetto per il lavoro che faccio, perché io sacrifico diverse ore al mese per portare dei video, e far conoscere giochi. Io spesso sacrifico i miei giochi, che mi piacerebbe giocare e finirmi, perché ho sempre roba che arriva e che devo fare il video per voi, e per rispettare comunque la promessa che ho fatto allo sviluppatore, che è quella di fare il video. Questo sfogo è uno sfogo un po' soft, però insomma mi andava di dirvelo. Per intanto continuerò con queste rubriche di aggiornamento sui giochi che vengono tradotti, e qualora siate a conoscenza anche voi di giochi che ho portato, che non erano in italiano, che sono stati tradotti e che mi sono sfuggiti, questo lo controllavo sistematicamente perché mi interessava, fatemelo sapere che non mancherò di citarvi e ringraziarvi, e poi faccio ovviamente un video di aggiornamento. Detto questo vi ringrazio e vi rimando ai prossimi gameplay. Ciao ciao!